Buonanotte, buonasera a tutti. Non mi rimane ben salutati, grazie assolutamente per essere salito con noi a Marcia. Il 27 marzo, Società Unita invita tutti alla Santa Messa in memoria di Suor Carmelina Tarantino alle ore 19.30 presso la chiesa di San Pastal de Yon a Tornil, per informazioni 416-443-73-19. Il 30 marzo, l'Associazione Bustalieri di Toronto organizza l'annuale festa, click and clock, a World Trade, per informazioni 9.05-893-72-18. Il 30 marzo, il club Arterno italiani e anziani presentano una serata di primavera, per informazioni 416-888-80-42. Because I was grabbing my bread, and I thought, well, I have a bag. So I just used a peso. Il 28 marzo, l'8 aprile mensile di San Pio, presso la chiesa di San Bernardo. Alle ore 19, seguita dalla Santa Messa, per informazioni 416-241-67-38. E' tutto anche per questa serata passata in compagnia di ragazzi, che è stata poi da Cine, per i presenti a Reshma. Naturalmente l'appuntamento è a domani sera, un buon esperimento di serata da parte di tutta la squadra di oggi. I personaggi indossano l'abbigliamento di Cine. Se ciò che è stato il 27 amore, voi che vuoi deprivi asleep. Grazie a tutti.